A ora di palo dunque sei riduce da una bellissima vittoria, medaglia di bronzo, la vediamo qui accanto a te, eccola qui alla judo e roba in campo a Follonica, raccontaci com'è andata. E' andata benissimo, potevo andare meglio, però sono felice per il risultato, una medaglia che aspettavo da tanto tempo. E grazie ai miei maestri, alla mia famiglia, tutto il mio tipo, ce l'ho fatta ad arrivare dove volevo. Senti, quanto è importante per te l'orgoglio di essere cerignolana? Tanto, perché vedo tantissimo i miei compagni che mi aiutano sempre, tutta la cerignolana ogni volta è fiera di me, quindi è una bella cosa. Prossimi impegni per te, allora? C'è Genova, 29 euro a Genova, spero di fare ancora meglio. Grazie.